Un tempo per ottenere un buon raccolto bastavano la professionalità e le capacità dell'agricoltore, ora non più. Occorrono mezzi e soprattutto risorse e con la crisi sono diventate sempre più difficili da reperire. Per questo Veneto Sviluppo, la finanziaria della regione, ha studiato uno strumento di ingegneria finanziaria che verrà messo a disposizione delle aziende agricole del territorio, per permettere anche alle imprese piccolissime, a conduzione familiare, di accedere al credito. Noi riteniamo che lo strumento più efficace per arrivare a grandi numeri, ma anche per intervenire sulle piccole imprese, sia quello della garanzia. In questo senso abbiamo avviato una misura, assieme all'assessorato dell'agricoltura, che prevede l'erogazione finale di circa 100 milioni di finanziamenti da parte del mondo bancario a un numero di aziende che dovrebbe essere almeno di 1.500, ma riteniamo che supererà le 2.000 imprese. I rischi in caso di mancato rientro per tutte le parti in causa sono ridotti. La banca che si farà carico del 50% di questo rischio, i confidi che si faranno carico di una quota e venendo sviluppo della parte rimanente. Praticamente i confidi correranno un rischio pari al 20% e venendo sviluppo di un alto 40% che coprirà con risorse proprie. Lo strumento studiato da Veneto Sviluppo si inserisce nella nuova programmazione agricola della regione. In termini finanziari ci sono 1.200.000.000 di euro. Le caratteristiche sono molto semplici. Abbiamo ridotto il numero di misure, non più 132, ma 45. Il finanziamento andrà per la maggiore sulle imprese agricole. Si passa da 470.000.000 di euro vecchia programmazione a 800.000.000 di euro nuova programmazione. Strumenti finanziari diversi, non solamente il fondo perduto, ma anche il conto garanzia. e il tasso agevolato.